Ciao a tutti gli amici di Androidblog.it, stiamo provando la videocamera del Mode B65M lo smartphone low cost prodotto dall'azienda italiana Mode che presenta una fotocamera da 3,1 megapixel che nella ripresa video non si comporta poi così tanto male considerando anche il prezzo di vendita di questo dispositivo che sarà disponibile fra pochissimi giorni qui in Italia notiamo la messa a fuoco che è praticamente inesistente anche se vi è la possibilità di mettere a fuoco durante la registrazione proviamo poi un pan veloce un controluce e la possibilità di zoomare fino a 4x con uno zoom digitale che fa perdere nettamente la qualità del video che già non era perfetta